Importante vittoria per i bianconeri del centro giovane di calciatori sulla pista del Monza per 6-0. Senza Muglia, al quale è stata tolta una giornata di squalifica quindi per il big match di sabato al Palabarsacchi, sarà disponibile di mister Bertolucci. Sugli scudi Muglia apre le marcature Costa al 13, poi proprio Muglia raddoppia al 16, Bertolucci al 23 nel primo tempo. Poi Muglia al sesto della ripresa ancora Bertolucci e Muglia, un centro giovane di calciatori che in pratica non ha mai avuto dei problemi in questa partita. Una prova ampiamente positiva da parte dei bianconeri che complici i mezzi passi falsi di Forte, De Marmi e Blodi, conferma i via Regini al terzo posto ma con un ritardo ridotto rispetto alle prime della classe. C'è da sfruttare il turno interno contro i campioni d'Italia e chissà che un colpaccio non possa sicuramente lanciare i bianconeri verso un rush di questo campionato che li vede sempre più protagonisti.